Dio è la causa prima di ogni movimento. Egli infatti è motore perché è meta finale a cui tutto tende, immobile perché causa incausata, essendo già realizzato in se stesso come atto puro. La caratteristica del suo essere puro dipende dal fatto che in Dio, come atto finale compiuto, non vi è la minima presenza della materia la quale è soggetta a continue trasformazioni e quindi a corruzione. Tutti gli enti risentono della sua forza d'attrazione perché l'essenza, che in costore ancora qualcosa di potenziale, in lui giunge a coincidere con l'esistenza. Cioè è tradotta definitivamente in atto. Il suo essere non è più una possibilità ma una necessità. In lui tutto è compiuto perfettamente e non v'è nessuna traccia del divenire perché questo è appunto solo un passaggio. Non viene pure l'imperfezione della materia che continua invece a sussistere negli elementi inferiori, i quali sono ancora una mescolanza, un insieme non coincidente di essenza ed esistenza, di potenza ed atto, di materia e forma.